Buonasera a tutti, Riccardo, Popolari per l'Italia. Credo che il tema sicurezza sia un tema cardinale e centrale nella nostra società, ma soprattutto vorrei sottolineare nella nostra città di Padova, ormai oggetto di malavita diffusa, con furti, rapine, vendita di droga, prostituzione. Il cittadino padovano non tollera più questa situazione e si sente lasciato solo dall'amministrazione, solo nelle sue paure, nella sua paura di uscire nelle ore notturne, nella sua paura di non poter più vivere la sua città come vorrebbe. E questo, a mio vedere, è intollerabile, perché il cittadino deve essere tutelato nelle sue libertà e nei suoi diritti. Quindi chiedo che siano implementate delle politiche di sicurezza efficienti ed efficaci per sopprimere questi atti malavitosi. Grazie.